Ciao, benvenuto o bentornato nel canale. Oggi voglio parlarti di un supporto per telefono che sto testando da due settimane. Tanto è vero che uno ce l'ho fisso nello zaino che utilizzo per registrare le sterne e il secondo l'ho acquistato per lasciarlo fisso qui in studio. Quindi andiamo subito a vedere che cosa è arrivato. Apriamo subito il pacco ed andiamo a vedere che cosa c'è al suo interno. Questo supporto è un supporto modello Gorillapod. La casa costruttrice è la Paolao, se non ricordo male. Comunque vi lascio il link in descrizione qui sotto. Ed è un supporto poco costoso rispetto all'originale. Qui siamo intorno ai 12 euro, se non ricordo male io l'ho pagato intorno ai 12 euro. E viene fornito il piedistallo Gorillapod insieme a due accessori. Due accessori che secondo me sono una chicca allucinante. Io l'ho preso per i due accessori fondamentalmente perché già ne avevo uno. Proprio figo, è proprio bello questo Gorillapod. Wow, mi piace, mi piace veramente tanto. È veramente molto versatile. In esterna lo si può agganciare da qualsiasi parte. Comunque prende qualsiasi forma. Quindi lo si può veramente agganciare ed utilizzare in qualsiasi situazione. Un ottimo materiale. Ogni sfera snodata è ricoperta di silicone. Può assumere praticamente quasi qualsiasi forma. La testa superiore, anche lei, è snodata. Quindi si può inclinare avanti, dietro, destra, sinistra. All'attacco a vite, estraibile da questo bottone laterale. Si può estrarre la slitta in maniera rapida. Fammi sapere nei commenti qua sotto se anche tu stai utilizzando un Gorillapod, di che marca e come ti trovi. Bello, mi piace. Lo trovo veramente, veramente bello, lo consiglio. Troviamo anche questa clip di fissaggio del telefono. Con due attacchi, con due fissaggi, per poterlo fissare in maniera orizzontale e verticale. Rivestito di morbida spugna. Io l'ho utilizzato con un iPhone 8 Plus. Quindi ci sta tranquillamente al suo interno anche un telefono con un display più grande. All'interno della confezione troviamo anche questo spettacolare telecomandino Bluetooth. Una volta acceso lateralmente, andando nell'impostazione del vostro telefono Bluetooth, lo andate a configurare come un qualsiasi apparecchio Bluetooth, quindi il telefono lo troverà confermate e lo accoppiate, questo telecomando è pronto all'uso. Il raggio di azione di questo telecomandino è di 10 metri e funziona con una pila 20-32. Utilissimo quando si registra o si scattano foto da soli. Io in questo momento posso stoppare, riavviare il filmato, stando comodamente seduto a due metri dalla mia videocamera, dal mio telefono. Quindi all'interno di questa confezione troviamo un Gorillapod, una clip di fissaggio del telefono ed un telecomando Bluetooth. Se questo video ti può essere stato utile per un tuo futuro acquisto, mettimi un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Bella questa sedia, mi piace! Mi piace! Grazie! Grazie.